120 chili di cocaina in un'ambulanza. A sequestrarli è stata la polizia colombiana nel nord-ovest del paese. A bordo un sedicente medico che ha provato a eludere i controlli sostenendo di star trasportando un paziente gravemente malato di covid. Una sessantina le confezioni di stupefacenti poi rinvenute durante la perquisizione. Cinque le persone arrestate.